Io ci credevo, eh? Ci credevo molto in questo progetto. Pensavo che fosse importante dopo quattro anni di infomigranti. Pareva importante, con quello che stava succedendo intorno a noi, fare un passo ulteriore, perché questi ragazzi di niente paura sono quei ragazzi dei quali si aveva paura in quel momento, dei quali, diciamo, c'era un governo che ti stigava le vulnerabilità dei più deboli rispetto agli stranieri, mentre loro poi erano i più vulnerabili dei ragazzi, no? Perché sono minori stranieri non accompagnati. Adesso posso dire niente paura. Cheese! E' bello!